Sì, diciamo che sapevamo che affrontavamo una squadra che sicuramente lotta per la salvezza, ma per noi era importante iniziare sin da subito con il Pio giusto e abbiamo iniziato da subito. La cosa importante era fare bene in difesa e diciamo che abbiamo fatto molto bene. L'importante erano i tre punti e siamo felici. Sì, conta, ma ovviamente conta la squadra, il lavoro che facciamo e tutto quello che prepariamo in allenamento tutti i giorni, poi dimostriamo in acqua tutte insieme.